In Emilia Romagna ci sono circa 1200 aziende agrituristiche. A causa dell'emergenza Covid nel 2020 rispetto all'anno precedente hanno perso in media il 50% di fatturato, che parliamo di più o meno 90 milioni di euro. Per contrastare questa situazione, per contare di più, perché sappiamo che le aziende agrituristiche sono piccole realtà, molto legate al territorio, questo è il suo bello ma è anche un punto debole. Per contare di più è nata il 30 dicembre del 2020 una rete di imprese, l'AR, Liberi Agriturismi in Rete. È nata per aumentare la massa critica. Per parlare di questo oggi siamo a Pegola di Malalbergo, ospiti dell'agriturismo Fattoria Corte Roeli, però qui con noi ci sono anche rappresentanti di altre aziende. Abbiamo Angelo Emili che è qui alle mie spalle dell'agriturismo Il Cucco di Alteido, Loris Naldoni dell'agriturismo Corte dei Mori di Brisighella. Il presidente di questa neo rete di imprese è Roberto Lodi della Fattoria Corte Roeli. Allora, perché avete deciso di fare questo passo? Dunque, perché? Perché ci siamo trovati anche noi in grande difficoltà. Come lei anticipava, l'anno scorso abbiamo anche noi subito 90 giorni di lockdown, poi abbiamo ripreso il lavoro ma le cerimonie praticamente sono state tutte cancellate perché alla ristorazione e tutte quelle che erano le protezioni dall'estero sono state tutte completamente cancellate. Per cui anche noi confrontandoci abbiamo detto cosa facciamo? Ci rassegniamo a quello che sta succedendo, prendiamo i trattori e andiamo in piazza, però probabilmente poi le persone non capirebbero perché poi le aziende agricole come codice di attività sono sempre rimaste aperte senza nessun problema, ma sulla parte agriturismo invece il problema c'è, un problema serio, economico. Abbiamo detto no, non facciamo proteste. Ci organizziamo in un gruppo, in una rete per cercare con questa rete di avvenire dei benefici. Lei per esempio prima ha detto che metterci in rete vuol dire aumentare di dimensione nei confronti di chi? Beh, nei confronti di fornitori per noi molto importanti, l'energia elettrica, il gas, il metano, gli istituti bancari, le assicurazioni, eccetera. Quindi questo lavoro che è appena iniziato, perché noi siamo nati il 30 dicembre, però abbiamo visto che inizia a dare i suoi frutti, nel senso che anche queste aziende importanti, quando presentiamo questo nostro progetto, hanno capito che per noi ne va, come dire, della nostra esistenza e per loro gli permette comunque di avere per un domani alla ripartenza dei fatturati importanti e garantiti. Quindi queste convenzioni saranno per noi di grande utilità e con il denaro che andremo a risparmiare, in parte verrà utilizzato nelle aziende e in parte insieme le andremo a investire per fare promozioni all'estero. Quindi noi ci stiamo già preparando per quello che sarà la ripartenza. E in quanti siete? Quante sono le aziende che hanno aderito? Allora, noi appena nati, i soci fondatori 17, di cui 15 agriturismi e due aziende agricole, perché poi all'interno dello statuto di LAR abbiamo anche inserito l'opportunità che aziende agricole possono unirsi a noi. Ora siamo già in 30. Angelo Emili è il vicepresidente della rete d'imprese dell'agriturismo Il Cucco di Altedo, quindi pochi chilometri da qua. Chi abita, chi ha l'azienda in Appennino o in zone particolari, alcuni hanno perso il 90. Chi magari come voi, più vicino alla città, è riuscito a lavorare comunque col settore business. Per voi avete fatto un po' un conto? Noi abbiamo perso il 40%, quindi praticamente stando fermi completamente dal 9 di marzo, marzo-aprile, maggio abbiamo riaperto con tutto, camere e ristorazione, ma purtroppo si è lavorato poco, sia con le camere che con le ristorazioni. Invece giugno-luglio, mesi ottimi, agosto non abbiamo parametri perché normalmente eravamo chiusi, invece quest'anno siamo rimasti aperti e abbiamo lavorato parecchio, settembre-ottobre. Poi da novembre è tornata la situazione difficile e abbiamo chiuso con un 40% in meno del fatturato perché fortunatamente, essendo vicini a zone industriali come Bentivoglio, Minerbio, Malalbergo Altedo, diciamo che abbiamo dei clienti che vengono per lavoro. Ovviamente immagino per voi avranno inciso tantissimo la mancanza delle fiere al quartiere fieristico di Bologna. Le fiere, diciamo, anche se ultimamente avevano perso un po' peso, però c'erano quelle 3-4 fiere importanti, fra l'altro l'anno scorso ci sarebbe stato anche l'Eima, che è una fiera biennale importantissima per noi, come per i nostri colleghi, per tutti, insomma per il settore alberghiero, e purtroppo non c'è stata, il Cosmo Prof è saltato una edizione, ma anche la seconda è già saltata, e poi c'era importante il Cersai. Questa è la situazione delle aziende nei dintorni di Bologna. Immagino che a Brisighella, l'azienda di Loris, le cose siano ancora più difficili perché voi sicuramente col business non credo che riusciate a lavorare tanto. No, noi condividiamo con tutti gli agriturismi di Colline il fatto che appunto il nostro sia una clientela di tipo turistico. L'anno scorso, anche per noi, è stato sicuramente un anno problematico. Si è azzerata completamente la presenza di stranieri per il via del fatto che dopo il lockdown, gli stranieri generalmente, lo straniero è un target che prenota per tempo, quindi dopo il lockdown non ha programmato e comunque non è avvenuto nelle nostre zone. abbiamo abbondantemente ripianato con gli ospiti locali. Probabilmente l'idea di andare in un agriturismo è stata per tanti anche una buona prospettiva, sicuramente migliore che non recarsi in un posto affollato. Certo, quindi l'estate ha salvato un pochino la situazione. Da questa rete che cosa si aspetta? È consigliere? Io mi aspetto condivisione soprattutto e circolazione di informazioni, perché ci troviamo che tante volte siamo noi con i nostri problemi e dall'altra parte ci sono situazioni che è possibile sicuramente affrontare in maniera migliore quando siamo, se non altro, informati. Giustamente diceva Roberto prima che è una crisi che segna e segnerà probabilmente quest'anno e probabilmente anche l'anno prossimo, avrà una coda molto lunga. Però questa la vedo come un'esperienza che ci aiuta a uscire, se non prima, sicuramente meglio. Io adesso però volevo anche alleggerire un po' la situazione, parliamo un po' anche di questi prodotti. Cominciamo a guardare avanti ricordandoci che ovviamente aziende agrituristiche, aziende agricole, la produzione agricola va avanti, per cui non è che i salumi si sono smessi di fare perché c'è l'emergenza Covid, idem per marmellate, succhi e ortaggi e quant'altro. Allora, visto che viene dalla zona di Brisighella, visto che voi in azienda allevate suini e anche ovini e lì arriveremo poi vicino a Pasqua per il discorso dell'agnello, ci racconti un pochino che cosa ci ha portato? Sì, la mia azienda è una piccola azienda di collina, 20 ettari, appunto coltiva cereali e vigneto e fra le produzioni zootecniche abbiamo un piccolo allevamento di maiali, è riconosciuto nel Consorzio di Parma, per cui applichiamo i disciplinari nel Consorzio per la produzione del prosciutto di Parma e questo è un piccolo assaggio di quello che si può ricavare dal maiale, insomma sono 6-7 tipi di affettati diversi e sono le nostre produzioni che manteniamo ancora nel nostro piccolo laboratorio aziendale, manteniamo ancora, come si suol dire, come si faceva una volta, quando le cose sono buone poi gli ospiti vengono a mangiare e non rimane niente. Diciamo che tanti poi ci chiedono direttamente di portarsi a casa qualcosa, quindi abbiamo una produzione abbastanza limitata e non abbiamo la necessità di andare sui mercati, per esempio, però assolutamente vendiamo anche i nostri prodotti. Vedete anche i vostri prodotti. Ecco, tornando a questo, si dice per la ristorazione il discorso dell'asporto. Voi come Agriturismo avete tentato, l'avete fatto, è fattibile? Noi l'abbiamo fatto l'anno scorso nel periodo di Pasqua, è stata una bella esperienza, nel senso che ci è stata data l'opportunità di ritrovare amici mentre gli portavamo i prodotti a casa, però abbiamo visto che per noi non è possibile. Effettivamente le distanze anche da coprire sono troppo grandi, un conto è avere una struttura in una città e fare delivery, un conto per la nostra esperienza, essere in paesi di campagna. Quindi noi abbiamo deciso... Non è una via percorribile per l'agriturismo, almeno per la vostra realtà, insomma. No, per la nostra realtà no. Ecco, veniamo anche voi ai prodotti qua, andiamo sul dolce, sui vini... Assolutamente, sì, noi siamo un'azienda di 12 ettari, produciamo cereali, abbiamo vigna e adesso da fine marzo, primo aprile, iniziamo a ricogliere gli asparagi verdi. E questo è il momento in cui, come dire, riprendiamo un po' fiacco, ecco, dopo un autunno un po' fiacco economicamente, non vediamo l'ora che la stagione in questo senso ci aiuti. Poi produciamo un po' di frutta, con la quale facciamo dei succhi di frutta, facciamo le marmellate, ecco, perché le crostate per le colazioni alla mattina e, come diceva Loris, la nostra fortuna è che poi gli ospiti che vengono a dormire, a cenare o quando fanno colazione sentono la marmellata e giustamente la chiedono da portarla a casa o da regalarle amici, piuttosto che con i succhi di frutta. Poi produciamo vini, due cultiva di lambrusco e una di vino bianco. Quando abbiamo iniziato a produrre i vini pensavamo esclusivamente di utilizzarli per il ristorante. Poi ci siamo resi conto, in realtà, che l'agriturismo è una grande opportunità. Noi ci troviamo anche i francesi, i cugini francesi, che vengono prima Covid, speriamo che tornino anche dopo Covid, e portano a casa il nostro vino. Beh, insomma, riuscire a vendere i vini in Francia, voglio dire, non è mica una cosa da poco. È una gran bella soddisfazione. Non è mica una cosa da poco, infatti. E allora, qui abbiamo gli ortaggi, qua ne abbiamo tanti, voi da sempre producete ortaggi, vedo delle cose bellissime. Abbiamo le prime insalate primaverili, queste ancora sono delle zucche tardive, diciamo, e poi dopo finocchi ancora in serra abbiamo, anche l'insalata sono in serra, bietola che è ancora in serra, i caldi li abbiamo già raccolti tutti, e quindi produciamo tutti i tipi di ortaggi. Certo. Pomodori, peperoni, melanzane, durante il periodo primaverile. Sono piccole parcelle, in totale sono due e tre di ortaggi, che usiamo nell'agghi turismo, e in parte vendiamo a Natura, abbiamo un rapporto con due o tre negozi di Bologna, e durante la stagione serviamo... E voi siete in biologico? Sì, biologico dal 1996. Sì, voi siete dei precursori del biologico, siete stati tra i primi. Ovviamente... Un po' di frutta, abbiamo un piccolo fruttetto che utilizziamo per i succhi di frutta, di marmellate e anche qualche trasformato, appunto, come appunto i succhi, dicevo, oppure la mostarda di zucca, e poi dopo facciamo anche i trasformati con gli ortaggi. Ecco, però oltre agli ortaggi c'è anche una particolarità, questo grano, grani, virgo, che cos'è? È un progetto che è nato dalla Facoltà Di Agrale di Bologna, dal professor Dinelli, è una miscela che è stata studiata di grani vecchi, diciamo, che vengono seminati insieme, coltivati insieme, raccolti insieme e quindi macinati anche insieme e danno una farina particolare, eccezionale. Una filiera vera e propria, nel senso che poi c'è anche... Sì, diciamo, un po' di produttori, diciamo, qui della provincia di Bologna e Reggio Emilia, in Modena. E poi ci sono alcuni fornai che usano questo pane per produrre il pane virgo e anche alcuni mulini che lo macinano. E poi ci sono i biscotti del re che sono un po' di singolo. Esatto, sì, sì, che è un prodotto, diciamo, di dominio pubblico del paese di Altedo e ha tutta una storia... C'è, racconti brevemente la storia, perché magari qualcuno già la conosce, però se non la conosce è molto bella. Allora, la storia è questa. Praticamente, Re Vittorio Emanuele III, di ritorno dal fronte, fece tappa ad Altedo per vedere le risaie e arrivato il sindaco non era pronto, sembra che fosse un dormiglione, e quindi la mamma del sindaco preparò questi biscotti per il re nel frattempo, li diede in dono al Re Vittorio Emanuele III e gli diede la possibilità di chiamarli col suo nome, appunto, i biscotti del re. Grazie, allora, per averci raccontato la vostra esperienza. L'augurio per tutti voi è di crescere, 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 crescere come numero, di avere le spalle sempre più larghe e l'augurio per tutti noi è che questa pandemia finisca, finisca nel migliore dei modi per poter ripartire davvero e poterci ritrovare intorno a un tavolo, non distanziati, in tanti, magari anche con un po' di resa, pazienza, le code alla fine le faremo anche volentieri.